In attesa della piattaforma che consentirà un controllo automatizzato dei Green Pass, le scuole potranno mettere in campo più verificatori, ciascuno delegato all'utilizzo dell'app Verifica C19. E quanto si legge nella circolare del Ministero dell'Istruzione inviata agli istituti a resa nota dalla Will Scuola, nel documento viene aggiunto che se è opportuno e possibile potranno individuarsi ingressi diversi per evitare assembramenti del personale. Domani è il primo giorno di scuola per i docenti. Per la presa di servizio gli istituti, al momento in campo ci sono i bidelli, dovranno chiedere a maestri e professori di mostrare o il passaporto verde o la certificazione di un tampone negativo, altrimenti sarà vietato l'ingresso. Per quanto riguarda i vaccini, invece, dal monitoraggio settimanale effettuato dall'Osservatorio Epidemiologico delle Marche, energio è che solo il 36,2% degli studenti dai 12 anni in su risulta completamente immunizzato contro il 33,5% della scorsa settimana. Il dato, però, supera il 61% se si considerano i giovani under 19 che hanno ricevuto almeno la prima dose. La situazione più critica resta quella della provincia di Macerata.